L'evento Confiris quest'anno sicuramente è stata una grande opportunità per tutti perché sono un po' di anni che o non ci vedevamo o ci vedevamo veramente in pochi e quindi è stata la voglia da parte di tutti di ritrovarsi e di ricontrarsi e di riparlare insieme. Sicuramente come Artigian Cassa confermiamo veramente la nostra vicinanza al mondo dei confidi, un mondo dei confidi che si sta evolvendo e a nostro avviso deve evolvere ancora di più. Sicuramente la centralità della garanzia rimane l'elemento importante della loro attività verso il sistema bancario perché con il Covid è diventato ancora di più un elemento qualificante del rapporto con i clienti. Quello che i confidi hanno hanno una territorialità molto più forte di quello che il sistema bancario oggi ha. Quello che devono fare insieme a noi ma da loro stessi è crescere ulteriormente, evolvere la loro numerosità di prodotti e servizi che possono offrire ai loro clienti, in modo particolare verso quello che il PNRR sta offrendo al mondo imprenditoriale italiano per riprendersi dopo il Covid. Sicuramente hanno la competenza e la conoscenza dei clienti, possono avere la possibilità di utilizzare le expertise di banche come la nostra perché è un modo migliore di poter presidiare i clienti e di farli crescere. Secondo me è stata una bella occasione di confronto, una bella occasione anche di dirci quelle cose che magari per telefono via Teams non siamo mancate di fare e crediamo che sia un passo importante per andare avanti e per crescere ancora insieme. Grazie veramente a questo evento perché serviva proprio per rimetterci tutti in linea.